buongiorno siamo in collegamento con andrea falsirollo presidente dell'ordine degli ingegneri di verona buongiorno buongiorno a voi partiamo con la prima domanda qual è la situazione degli edifici a verona al momento allora non ho una fotografia esatta di quello che è la situazione però la rappresentazione è più o meno uguale in tutta Italia nel senso che diciamo le stime sono che un 1 2 per cento di edifici nuovi ogni anno quindi sappiamo che la base su cui lavorare è diciamo quella degli anni 70 80 e poi a seguire quindi la situazione è una situazione che deve migliorare visto che sono edifici che non hanno mai non sono mai rientrati in una logica di efficientamento perché la prima legge che aveva come riferimento efficienza isolamento delle pareti degli edifici è nata nel 76 ma era molto blanda e poi a seguire nel 91 quindi nel 1991 di strada ne abbiamo fatta ma tanti edifici sono risalenti a prima di questa legge quali sono le opportunità e le criticità dell'efficientamento energetico? Quello sono un po' sotto gli occhi di tutti nel senso che sappiamo che migliorare fare un cappotto cambiare la caldaia e così via ha un miglioramento dell'efficienza e quindi del rendimento quindi si consuma meno combustibile per riscaldare l'abitazione o l'edificio in genere però dobbiamo guardarla anche in maniera un po' più ampia quindi fare una considerazione un po' più ampia legata anche alla città o comunque in generale all'ambiente e al territorio perché dico questo? Perché l'efficientamento viene fatto ovviamente un po' per un discorso di contenimento di quello che sono l'utilizzo delle materie prime che abbiamo sul pianeta ma dall'altra parte anche per diminuire i consumi e gli effetti di questi consumi noi abbiamo due effetti principali a cui poniamo attenzione quotidianamente il primo sono i PM10 e poi a seguire tutti i PM più piccoli però i PM10 li utilizziamo per definire quello che è la situazione allarmante per cui dopo si stabiliscono chiusure o meno del traffico del centro storico e poi l'altro è il consumo di anidride carbonica questo cosa vuol dire? Vuol dire che scusate questo vuol dire che noi dobbiamo tenere sotto controllo questi due effetti perché il primo è localizzato cioè le polveri sottili sono direttamente collegate ai consumi che abbiamo all'interno della città e quindi dato dagli edifici presenti sulla città oltre che dare macchine e così via e l'altro è dato invece più in senso generale e non dipende dal luogo in cui vengono prodotti quindi fare efficientamento sugli edifici presenti in città vuol dire diminuire l'effetto delle polveri sottili all'interno della città e quindi utilizzando pompe di calore invece che caldaie o fare il cappotto vuol dire meno produzione locale quindi meno PM10 dall'altro lato invece rimangono l'anidride carbonica che poi produce il cosiddetto effetto serra che è un effetto globale e che non dipende dal luogo in cui viene prodotto poi l'anidride carbonica questi sono i due effetti principali quindi faccio un esempio quando si parla di macchine elettriche che non sono inquinanti è parzialmente vero perché non sono inquinanti nel luogo in cui viene utilizzata ricaricata l'auto ma sono inquinanti in un altro luogo per esempio in una centrale turbogas localizzata magari in provincia e poi a livello globale sulla anidride carbonica hanno effetto quindi è spostare un po' il problema da un luogo all'altro poi c'è un ragionamento secondario che va fatto sul rendimento di sull'efficienza di produzione dell'energia elettrica o dell'utilizzo finale dell'energia prodotta però quello è un ragionamento secondario un po' più fine mi fermerei a questo principale dell'inquinamento del PM10 E quali sono invece gli interventi più veloci da attuare? Allora per quanto riguarda gli edifici per fare efficientamento energetico gli interventi più veloci sono sempre quelli relativi agli impianti quindi solitamente se qualcuno vuole fare un intervento veloce per diminuire i consumi il primo intervento da fare è quello di andare a lavorare su quello che è la produzione del calore quindi sulla caldaia quindi caldaia in genere quindi può essere caldaia metano può essere una pompa di calore può essere qualsiasi altro sistema di produzione del calore dall'altro lato invece ci sono anche sistemi tipo i pannelli per l'acqua calda anche questi sono sistemi per veloci quindi che hanno una semplice installazione sono anche poco costosi e hanno un buon risultato in termini di efficienza e anche costo beneficio ovviamente E appunto invece gli interventi che avranno un maggior impatto sull'efficientamento quali sono? Allora, questa è una domanda interessante perché è un ragionamento un po' più ampio quando si parla di fare cappotto di fare isolamento si pensa sempre a tutto l'involucro però se si volessero fare degli interventi mirati tante volte è possibile studiare tramite un professionista gli interventi ad hoc per ottimizzare quello che è il beneficio in base all'investimento che viene effettuato faccio un esempio che solitamente si fa se devo fare il cappotto e per vari motivi non voglio farlo su tutto l'edificio se volessi ottimizzare il mio intervento dovrei operare solitamente sulla parete nord dell'edificio e sul sottotetto o sul tetto perché sono le situazioni più disperdenti e poi anche sono le più facili da attuare quindi questo è l'intervento sulla caldaia sono gli interventi che sono i più veloci e i più che si ripagano prima sono gli interventi che hanno il maggior ritorno sull'investimento effettuato Quali tecnologie sono state o verranno messe in campo? Scusi, non ho capito la domanda Quali tecnologie sono state o verranno messe in campo per l'efficientamento energetico? Allora diciamo che grazie anche alle nuove normative si sono sviluppate nuove tecnologie un esempio su tutte che è quella che è entrata anche nel super bonus sono le caldaie ibride le caldaie ibride sono delle caldaie che solitamente noi utilizziamo per riscaldare gli edifici che sono abbinate alla pompa di calore questo perché? perché uniscono i pregi e i difetti dei due sistemi di generazione di calore la caldaia è diciamo ha una buona produzione ha una produzione diciamo stabile di quello che è il calore però è meno efficiente di una pompa di calore che subisce invece una drastica non ha un rendimento costante e non è così performante come la caldaia in termini di risultati per cui l'abbinamento di caldaia e pompa di calore che effetto ha? ha l'effetto di utilizzare le due tecnologie in funzione della temperatura esterna per cui quando le temperature sono superiori faccio un esempio ai 5 gradi questa tecnologia ibrida preferisce far funzionare la pompa di calore nel momento in cui va sotto i 5 gradi invece questa tecnologia è già studiata in modo tale che funzioni sulla caldaia quindi ha un effetto di esponenziale di quelli che sono i benefici delle due tecnologie non privilegiando e non diciamo insomma privilegiando gli aspetti della continuità del servizio che serve all'utente con i benefici dati dalle due tecnologie in termini di risparmio nell'efficientamento energetico non si parla o comunque si parla poco di energie rinnovabili perché secondo lei? allora sono due infatti i concetti differenti fare efficienza vuol dire consumare meno energie rinnovabili invece vuol dire produrre energia da fonte rinnovabile e quindi che si rinnova che si rinnova qual è il concetto? noi tutti pensiamo che fare un impianto fotovoltaico o usare un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sia fare efficienza questo vuol dire invece utilizzare energie rinnovabili che poi hanno in termini economici un risparmio e quindi un'efficienza ma non è nel vero senso della parola fare efficienza infatti noi con il cosiddetto impianto fotovoltaico produciamo energia quotidianamente senza nessuna spesa senza nessun impatto sull'ambiente però ovviamente e quindi ci permette di consumare meno energia prodotta da fonti fossili infatti per questo motivo quindi sono due concetti differenti e quali soluzioni potrebbero venire messe in campo dalle energie rinnovabili allora qui noi solitamente conosciamo come dicevo fotovoltaico adesso va molto di modo usare anche le batterie di accumulo per l'energia fotovoltaica che evidentemente non avendo una produzione notturna con questa batteria di accumulo aumenta l'utilizzo di quello che è l'energia rinnovabile nell'arco delle 24 ore invece che su mezza giornata ovvero sulle ore di produzione di date dettate dal sole poi conosciamo i pannelli per produzione di acqua calda però tante volte si dimentica che ci sono anche i cosiddetti cogeneratori motori di cogenerazione che ovviamente per unità familiari per abitazioni diciamo civili è poco utilizzata ma pensando anche a situazioni tipo condominio alberghi un motore di cogenerazione permette di utilizzare quello che potrebbe essere l'utilizzo di metano non solo per la produzione di acqua calda e quindi fare riscaldamento ma contemporaneamente produrre anche energia elettrica aumentando di molto il rendimento questo diciamo viene considerato la stregua di un impianto ad energie rinnovabili quindi ci sono molte soluzioni che si possono trovare e possono essere attuate ovviamente ogni soluzione va studiata ad hoc con con un professionista o con qualcuno che possa come dire consigliare quello che è il giusto compromesso la giusta soluzione in base alla situazione che si trova davanti e c'è un modo per capire la convenienza e a chi ci si può rivolgere per capirla allora la convenienza è dettata dal quello che diciamo si può risparmiare o quello che produce un impianto di energia rinnovabili quindi di conseguenza quello che potrebbe essere utilizzato in modo gratuito perché prodotto quotidianamente è un calcolo che insomma si può fare anche il singolo cittadino il singolo utente può fare in autonomia però se qualcuno volesse essere più sicuro su quello che sono i termini benefici e costi di un investimento è bene diciamo confrontarsi con un professionista all'interno dell'ordine ingegneri ci sono due figure che secondo me sono adatte a valutare questa tipologia di soluzioni e sono gli ingegneri termotecnici e gli ingegneri energetici questi due noi siamo disponibili a fornire denominativi di persone che si occupano di questi argomenti a chi ai cittadini che ne facessero richiesta e in base a queste figure potrebbero trovare quella soluzione adatta alla tipologia e fare anche un'analisi dell'investimento o del tempo di ritorno dell'investimento quindi grazie a queste due figure si possono trovare delle soluzioni più adatte un'ultima domanda quali soluzioni potrebbero portare un maggiore successo in futuro allora ci sono delle soluzioni che ci sono da sempre avranno vita e successo costante ed è praticamente il cappotto per l'isolamento dell'edificio questa è una soluzione che continua a permanere continuerà ha sempre avuto successo e sempre avrà successo e questa è una cosa standard quello che invece vedo un continuo aumento sono i sistemi fotovoltaici con batterie di accumulo ecco dopo un inizio difficile credo che questo sistema con batterie di accumulo avrà sempre più successo anche abbinato al super bonus infatti il super bonus incentiva a questa tipologia di soluzione un'altra tecnologia che secondo me avrà successo nel futuro sono come ho detto prima le caldaie ibride perché sono un giusto compromesso della soluzione tra le due tecnologie e poi sono abbinabili anche ai sistemi fotovoltaici infatti una delle soluzioni che solitamente si vede con col super bonus è impianto fotovoltaico con batterie di accumulo e soluzione della caldaia con una caldaia ibrida anche perché queste tecnologie solitamente sono già studiate per essere autoadattive con la presenza del fotovoltaico cioè cosa intendo con questo intendo dire che la caldaia la caldaia sa della presenza dell'impianto fotovoltaico e quindi anche in funzione dell'energia rinnovabile fa le sue considerazioni per capire quando funzionare a caldaia e quando funzionare a pompa di calore quindi principalmente secondo me le tecnologie sono queste poi insomma una cosa che forse si vede già adesso che sta crescendo sono le ricariche delle auto elettriche che stanno avendo anche una sempre grazie al super bonus una diffusione nelle abitazioni oltre che nelle attività commerciali ecco questa è una soluzione che non fa efficienza ma a livello globale l'utilizzo dell'auto elettrica è considerata come una forma di efficienza quindi anche questa secondo me andrà a implementare in futuro la sua applicazione bene noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e il preziosissimo contributo che ci ha dato grazie a voi le auguro una buona giornata e un buon lavoro da tutta la redazione grazie mille buona giornata arrivederci arrivederci grazie a tutti